Inizi il campionetto! Non si vede! Non si vede niente! Ma perché? Porca puttera! Mister! E fatti Team Vision! Con Team Vision hai da zone con tutta la serie a team e Infinity Plus con la UEFA Champions League. Scopri la promo! Vieni nei negozi team, chiama il 187 o vai su team.it. Team Vision, la nuova chiesa del calcio delle tue passioni.